Il prossimo pallo, il prossimo pallo che richiede molta concentrazione, ha bufine ancora tu, c'è un senso che stiamo fermo, cioè, tanto fermo alla concentrati. Allora, il prossimo pallo ci avrà, se ce lo lanci, non sembra che abbia 60 anni, sembra che ce l'ho dato a Pasqua o no. Ok, per voi, anzi per noi, ci fanno vedere un pozzo al viennese, vero Pippi? Vai Pippi? E non chiamo Peppe perché ne vediamo troppi di Peppini nella scuola, non lo chiamo Pippi? Grazie a tutti, grazie a tutti. Allora, quando si fanno le competizioni di ballo di danza sportiva, si fanno cinque palle consecutivi, cinque palle consecutivi, è un palla tosto, no? Ha detto, per Pippi? Io gli ho detto, cosa volete fare? Tutte e cinque palle, l'hanno imparato, mi vuole fare tutte e cinque. Però, vogliamo cerchere gli altri. Ti se stanno andando per il, ma mi che si non è creato, no? Certo, ma c'è un po' da l'oderno. E' ok, è ok. Comunque, che mi ho fatto la tecola, in questo senso non ho così. Ok, allora. Oh, c'è una pistola che ha fatto, è piccolato, allora. Allora, il prossimo palo che ci farà vedere, Felicia e Peppino, è uno slow-foot-stot. Vai, c'è un palo, vai. Questa è una cosa seria. È un palo, vai, c'è un palo, vai. È un palo, vai, c'è un palo, vai. E' un palo, vai, c'è un palo, va. E' un palo, vai, c'è un palo, vai. C'è un palo, vai. E' un palo. Ok, è un palo. Grazie a tutti Concentrati Concentrati Non mi dico i commenti Brava, brava Va bene, va bellissimo Allora Quando si fa le convenzioni L'ultimo palo è quello più scatenato È quello più Però Per fare questo qua Prima ci vuole una bella carica Per dargliela carica dobbiamo fare Tutti quanti Tutti quanti Guarda quella monona Tutti quanti un applauso Peppino e Peppino E poi possiamo Passare a un giro di Qui Certo Vai Gianfranco No Passare a un giro di Tutti quanti un applauso Poi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti